I trader richiedono un broker che offra loro massima protezione e la formazione più avanzata. Per questo scelgono ActiveTrades, il broker globale protagonista nel trading online. Cenerentola si guardò nello specchio e stentò a riconoscersi nella ricca veste che le andava a pennello. Mancava però ancora qualcosa, le scarpine da ballo. In soli 5 secondi la foto viene acquisita, digitalizzata e inviata direttamente alla scheda di memoria presente nel dispositivo o a un altro supporto, come una cornice fotografica digitale. Con HS System e un obiettivo grandangolare Canon di altissimo livello, PowerShot G12 offre immagini di qualità eccezionale in qualsiasi situazione. Il centro di assistenza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, fuso orario centrale europeo. Per questioni urgenti, la preghiamo di attendere in linea e di lasciare un messaggio. Un nostro coordinatore e operatore sarà avvisato e la richiamerà al più presto. DMC G1 di Panasonic rappresenta la nuova generazione di apparecchi fotonumerici. Dotato di un sensore Live MOS da 12 milioni di pixel, combina la compattezza e la semplicità di utilizzo degli apparecchi fotografici compatti con la qualità delle reflex numeriche.